Siamo al Salone S3 2023, a margine della premiazione degli ESG Identity Awards. Siamo qui con Marco Barbaro, Country Head Italia, di BNP Baribas Asset Management, che ha ottenuto il terzo posto nella categoria Mid-Size IEM. Considerando che si tratta di un premio all'ESG Identity del gestore, che quindi prende in considerazione un novero di variabili che oggi non sono valutate in altri assessment. Cosa vuol dire per BNP questo premio? È un riconoscimento di un impegno che abbiamo assunto da molto tempo e della perseveranza con la quale abbiamo portato avanti questo impegno. Siamo sicuramente felici ed è completa e conferma i riscontri positivi che abbiamo ricevuto da soggetti terzi, quindi indipendenti, che analizzano le performance ESG degli asset manager, sia in termini di stewardship e engagement, della qualità dell'integrazione di dati ESG e anche nel loro responsible business conduct. Come dico spesso, l'approccio alla sostenibilità non ha un traguardo, ma è un processo dinamico che vive delle trasformazioni, dei cambiamenti che il mondo, la società attorno a noi ci pone e delle sfide che essa ci pone. Ed è per noi un impegno, una necessità, è un impegno appunto a progredire sempre più nella capacità di adattarsi a questi cambiamenti e nel nostro DNA. E per fare questo è molto importante avere dei riscontri da parte di analisti indipendenti, come appunto è il caso di questo premio, perché ci dà la percezione di quanto effettivamente siano evidenti gli sforzi e quello che noi facciamo. E come vede il 2024 per gli ESG? È d'accordo che la crescita sarà magari meno uforica, ma più solida e consapevole? Ma io non so se sarà meno uforica da un punto di vista quantitativo. Certamente ci sono alcuni fattori che sono positivi. Per molti operatori finanziari l'approccio sostenibile è ancora in corso e quindi gli effetti positivi si vedranno anche nell'anno che verrà, sia in termini delle strategie che anche della riqualificazione del loro gambe di offerte. Dall'altra sappiamo che ci sono alcuni fattori che invece sono delle sfide, sono soprattutto legati alle condizioni di mercato. Abbiamo visto quest'anno, ad esempio, come gli investimenti tematici e impact investment hanno effettivamente sofferto un po' vista la contingenza del ciclo dei mercati. Però di una cosa sono certo, sarà molto più solida la consapevolezza di quello che significa avere un approccio sostenibile. Da una parte dovrebbero nei prossimi mesi vedere alcuni nodi regolamentari sciogliersi e anche la parte FDR, la consultazione, andrà presto a realizzarsi. E soprattutto direi che la cultura degli investimenti sostenibili si sta allargando sempre di più e radicando sempre di più anche grazie a delle realtà come appunto l'Alzalone del SRF.